Questa è una mostra particolare, una mostra molto importante, l'artista Sonia Ross e il titolo della mostra è Empty Eden. L'artista è veneta e ha già messo in luce le sue qualità pittoriche per meriti e riconoscimenti in vari spazi istituzionali, partecipando ad importanti e significative rassegne d'arte. E pertanto noi siamo davvero orgogliosi di ospitare quest'artista, soprattutto perché il nostro intento è quello di valorizzare questo bellissimo palazzo del Trecento, che è appunto il palazzo di Casa Gaia da Camino. È un piacere e un onore aver avuto il privilegio di scrivere alcune righe di presentazione nel catalogo di queste opere. Il modo migliore per apprezzare un'opera d'arte ovviamente è venirla a vedere sul posto, fermarsi, osservarla, riflettere e vedere che cosa l'opera d'arte ti suggerisce e che cosa tu vedi nell'opera d'arte, che cosa tu proietti nell'opera d'arte, come l'artista ha mandato il messaggio a te stesso, tu lo devi restituire all'artista. È una specie di gioco di specchi. Tutti gli aggettivi che in genere si usano dal punto di vista tecnico servono per avere un'educazione, se vogliamo, anche semiprofessionale di approccio all'opera d'arte, ma non influiscono sull'emotività e sulla sensazione che l'osservatore prova. Qualche volta, anzi, è meglio leggere dopo la critica, per vedere se non solo coincidono i pensieri e le emozioni, ma se per caso non ci sia la necessità di rivedere l'opera d'arte dopo aver letto gli spunti critici. In ogni caso, questa intensità di cui è stato prima ben detto sulle opere di Sonia, è un'intensità che nasce dal fatto che in ognuno di questi quadri, che rappresentano paesaggi, ma sotto sotto c'è sempre il corpo umano, secondo me, e se uno li osserva con attenzione, vede che c'è una simbiosi di natura, di anima, la natura è fatta ovviamente non soltanto di paesaggi, di vegetazione, ma anche di corpo, il corpo umano fa parte della natura, parte integrante, e vedere come vengono assimilati e connessi, ecco, questi due aspetti, del corpo e della natura, e come l'osservatore li vede, e come le emotività dell'artista entri nel tuo cuore, ecco, questo è, secondo me, l'aspetto più importante di questa visione cumulativa di queste 25 opere che dovete venire a vedere, perché, ripeto, la sintesi tra l'altro con questo ambiente straordinario di storia, di cultura, di letteratura, di trevigianità, ma anche di venezianità, e vorrei dire di universalità di Porto Buffolet, ecco, è un'esperienza che soprattutto in questi momenti non dobbiamo assolutamente perdere.